Consiglio all'ordine del giorno l'elezione del Presidente dell'Assemblea Legislativa dei due vicepresidenti, dei due segretari e dei due segretari questori del Consiglio regionale. Antonio Mazzeo, con 36 voti su 40 partecipanti, è stato rieletto Presidente del Consiglio regionale della Toscana nell'undicesima legislatura. Oltre ai voti di preferenza raccolti da Mazzeo, ci sono stati due voti per il consigliere Francesco Gazzetti, un voto nullo e una scheda bianca. La votazione sul Presidente del Consiglio regionale è stato il primo atto delle operazioni di voto per il rinnovo dell'ufficio di presidenza, previsto da regolamento interno giunte alla metà della legislatura. Sento un forte carico di responsabilità. Quando l'Assemblea Legislativa ti elegge nella maniera in cui sono stato eletto oggi, mi dà il senso di quanto sia importante il lavoro che abbiamo fatto in questi due anni e mezzo, con serietà, con impegno, con rigore, con passione, insieme a tutti gli altri colleghi dell'ufficio di presidenza che ringrazio. Noi, davanti a noi, abbiamo due anni e mezzo ancora molto complicati. Usciamo dalla terribile pandemia, i primi mesi difficili, portati avanti da tutti con grande serietà, lo scoppio della guerra con tutto quello che ha significato sicuramente perché le nostre coscienze sono state scosse, ma anche per quello che poi ha significato nella vita di ogni giorno delle cittadine e dei cittadini della nostra regione. La Toscana è sempre stata una terra d'accoglienza, una terra aperta, inclusiva e vuole continuare ad esserlo. Io mi sono preso un compito che è quello di cercare di portare nei prossimi due anni questa Assemblea Legislativa a essere sempre più la casa delle Toscane e dei Toscani, un luogo aperto in cui la maggioranza possa perseguire la sua giusta volontà di portare a casa le leggi che ritiene più giuste per offrire servizi migliori ai cittadini e ai cittadini toscane e la minoranza abbia il suo spazio di critica e anche di opposizione dura, aspra, quando serve. Io sarò garante di questo, voglio essere come ho fatto fino ad oggi e spero di poter fare meglio il Presidente di tutte le Toscane e di tutti i Toscani. Vi assicuro che oggi, dopo questa votazione, ero ancora più emozionato perché quando ci si conosce poco si può dare fiducia, così anche a scatola vuota. Dopo due anni e mezzo di lavoro il risultato di oggi apre anche, come dire, un significato, ha un significato, quello di aver creato con tutte le forze politiche un rapporto vero, schietto, leale, sincero perché poi alla fine l'obiettivo di tutti è offrire ai cittadini e ai cittadini della Toscana servizi migliori. Non so se sempre siamo stati all'altezza ma so che continueremo a andare avanti in questa direzione. Il clima che si è riscontrato in questa importantissima seduta, la seduta che a metà legislatura conferma i ruoli nel Consiglio regionale, in fondo è anche una valutazione d'apprezzamento per il lavoro della Giunta e conferma come l'equilibrio che ci siamo venuti a creare fra Giunta e Consiglio ha portato a far sì che sono state confermate quelle figure di riferimento non solo il Presidente Mazzeo ma anche il Vicepresidente Scaramelli che è espressione di una collegialità di lavoro nella maggioranza che vede unita da un lato la forza del Partito Democratico, dall'altra di Italia Viva, dall'altra ancora della sinistra e contemporaneamente un'armonia di lavoro nel reciproco rispetto dei ruoli fra maggioranza ed opposizione e questo dà una spinta importante anche al lavoro della Giunta. Subito dopo l'insediamento di Mazzeo sono stati eletti due Vicepresidenti. Il voto ha riconfermato Stefano Scaramelli che ha ottenuto 21 voti e Marco Casucci che ha ottenuto 13 voti. Un segnale importante è che consolida una maggioranza solida a livello regionale ringrazio le colleghe e i colleghi del Partito Democratico per la fiducia che mi hanno concesso, ringrazio il collega Sguanci. Si consolida la maggioranza di centrosinistra nel governo della nostra regione si consolida e si rafforza il governo Gianni nel contempo della mia figura di carattere istituzionale a garanzia di tutto il Consiglio regionale, di tutti i cittadini toscani quindi la capacità di incidere nei processi dell'Aula, nella presidenza dell'Aula, in tante iniziative istituzionali che ho sostenuto nel territorio, con il quale ho collaborato con Antonio Mazzeo, presidente, anche lui riconfermato e nel contempo ovviamente conferma del mio ruolo in questo momento anche di guida politica di Italia Viva a livello regionale, nel Consiglio regionale a sostegno ovviamente di una maggioranza che si consolida con questo voto che compatta quindi questa nostra coalizione. Far parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana è un grande onore ma anche ci spinge a dare il meglio di noi stessi e a migliorarci giorno per giorno siamo al servizio dei toscani e lo stiamo dirigendo la macchina del Consiglio regionale facendo gioco di squadra quando va fatto in effetti siamo riusciti a dare il nostro contributo insieme agli altri per proposte unitarie che sono state poi approvate dall'Aula mi riferisco in particolare sull'avanzo di bilancio e al tempo stesso abbiamo svolto con puntualità il nostro compito ispettivo affinché tutto potesse procedere nel modo migliore con la massima trasparenza è una grande responsabilità ma anche una grande gioia io sono onorato di far parte dell'ufficio di presidenza ormai dal dicembre del 2017 sono diversi anni e ho cercato in questo periodo di fare l'interesse di tutti i toscani cosa dovuta e al tempo stesso quanto mai gratificante la composizione dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale si è completata con l'elezione dei due consiglieri con funzione di questori per il cui ruolo l'Aula ha votato i consiglieri Francesco Gazzetti e Marco Stella Gazzetti ha ottenuto 19 voti mentre Stella 13 credo che ci sia questa ulteriore e rinnovata possibilità di potenziare il lavoro dell'ufficio di presidenza e voglio evidenziare il buon lavoro che è stato svolto dalle colleghe e colleghi del precedente ufficio di presidenza e adesso l'innesto di Marco Stella e anche l'arrivo di questa nuova figura del questore sicuramente ha una volontà precisa quella di potenziare e moltiplicare anche le possibilità di copertura del territorio per quanto mi riguarda io provengo in questa legislatura dall'esperienza della Commissione Europa il tema dell'Europa è un tema di sempre maggiore e crescente attenzione ritengo dunque che questo sia sicuramente un campo nel quale potenziare il lavoro e poi c'è sicuramente una grande attenzione che deve essere dedicata ad esempio ai giovani noi abbiamo una straordinaria esperienza come quella del Parlamento regionale degli studenti, dei ragazzi e delle ragazze credo che il legame vada ancora di più rinsaldato e poi c'è un impegno assolutamente significativo che credo debba essere quello di poter valorizzare impegnarci ancora di più insieme al presidente Mazzeo ai vicepresidenti ai segretari e adesso anche insieme al collega Stella come nuovi soggetti come nuovi questori anche del protagonismo e del coinvolgimento delle colleghe e dei colleghi consiglieri spesso e volentieri avvertiamo anche questa istanza ovvero la necessità che ci sia un impegno e un protagonismo ancora di più di coloro che siedono in consiglio regionale e credo che insieme alla straordinaria attenzione delle istanze, delle necessità delle toscane e dei toscani ci sia anche la possibilità di far sì che le straordinarie potenzialità e energie che siedono in consiglio regionale possano essere ancora di più valorizzate e messe in evidenza credo che questo sarebbe e sarà molto utile anche perché questo concorrerà sicuramente anche a lavorare ancora di più e con ancora più energia al vantaggio delle toscane e dei toscani in un rapporto molto stretto con la giunta e con il presidente della regione toscana insieme al collega Gazzetti andiamo a ricoprire questo nuovo incarico che c'era già nella ottava legislatura poi con la modifica del numero di consiglieri fu tolto abbiamo individuato questa modalità di lavoro insieme cioè l'allargamento dell'ufficio di presidenza non perché vi fosse soltanto un'esigenza di carattere numerico ma perché ci siamo resi conto che l'ampliamento dell'ufficio di presidenza corrispondeva ad un'esigenza di snellimento del lavoro corrispondeva insieme anche all'istituzione della figura del sottosegretario ad un rapporto diverso fra ufficio di presidenza giunta e lavoro del consiglio regionale non scordiamoci mai che noi viviamo una fase in cui c'è stato un taglio drastico del numero dei parlamentari pensiamo a quanto ha inciso sulla rappresentanza delle elettrici e degli elettori toscani a quanto è inciso nel rapporto fra cittadini ed eletti ecco noi pensiamo che nell'allargamento dell'ufficio di presidenza non solo c'è una rappresentanza ulteriore con l'ingresso di Forza Italia delle forze politiche in quell'ufficio lì ma c'è anche un modo diverso di lavorare usciamo da due anni difficili che sono quelli della pandemia ci portiamo dietro alcune cose positive e alcune cose negative io sono convinto che con il collega Gazzetti che ha preseduto la Commissione Europa porteremo per esempio più Europa all'interno dell'ufficio di presidenza il che significa avere anche un rapporto e una rappresentanza diretta dentro il bilancio abbiamo bisogno di lavorare sempre di più io sono del 1971 rappresento quella generazione Erasmus che girava l'Europa un po' per divertimento molto per divertimento che nei propri viaggi, studi nel percorso universitario trovava all'estero magari la moglie la fidanzata trovava magari un lavoro ecco io credo invece che l'Europa di oggi con i ragazzi 18, 19, 20 anni c'è un tema del tutto culturale quando si comincia a girare l'Europa che ha a che vedere con la rappresentanza sicuramente l'ampliamento dentro l'ufficio di presidenza con il fatto che siamo usciti dal Covid dove il contatto fisico è diventato un elemento quasi di distanza noi vogliamo riavvicinarsi ai cittadini l'ampliamento dell'ufficio di presidenza serve anche a questo infine nel segno della continuità con l'ufficio di presidenza uscente anche l'elezione dei due consiglieri segretari dove l'Aula ha votato la riconferma della consigliera Federica Fratoni con 23 voti e del consigliere Diego Petrucci con 14 voti sono molto felice che l'Aula abbia riconosciuto il buon lavoro fatto e abbia riproposto i nominativi già presenti in ufficio questo appunto come segnale di fiducia anche per il futuro credo che continueremo a lavorare anche con l'innesto dei due nuovi questori in uno spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto le sedute dell'ufficio di presidenza orientando la nostra azione alla valorizzazione del ruolo che l'istituzione consiglio regionale deve avere per tutti i cittadini toscani cercando di rappresentarle al meglio e soprattutto di favorire anche iniziative che promuovano i principi statutari del nostro ente quindi grande attenzione ai valori dei diritti all'economia circolare alla sostenibilità ai temi del momento porteremo avanti questo lavoro avviato sulla immagine di una Toscana 2050 quindi disegnando anche traiettorie nuove di sviluppo e lo faremo ovviamente in un'ottica come dicevo di collaborazione che va oltre i colori politici ho voluto sottolineare il fatto che in questo ufficio di presidenza io sono l'unica rappresentante femminile e questo deve ovviamente impegnare ancora di più i lavori dell'ufficio e del consiglio tutto a favore appunto di una parità di genere effettiva in stretta collaborazione con la commissione pari opportunità perché credo che questo sia uno dei principi fondamentali sui quali ovviamente vogliamo lavorare sicuramente con enorme soddisfazione con un onore grandissimo rappresentare il consiglio regionale della Toscana nell'organo di governo lo facciamo in maniera penso il più istituzionale possibile perché non è quello il luogo della contesa politica l'agone politico ci deve essere anche duro anche rigido sicuramente in certi momenti radicale ma questo deve essere fatto nelle commissioni dove si discutono le proposte di legge e le linee di governo della regione toscana sicuramente nell'aula del consiglio regionale l'ufficio di presidenza è un altro ambito nel quale dobbiamo invece decidere le regole che valgono per tutti e in quel momento dobbiamo avere un atteggiamento il più possibile super partes anche riuscendo a spogliarsi delle proprie appartenenze politiche e avendo appunto come obiettivo comune l'interesse dei cittadini toscani a l'interesse